Sono molto felice di partecipare a giornate come queste organizzate alla Special Olympics che da anni ormai si occupano di sport e dei valori dello sport, soprattutto integrazione, inclusione. Alle mie spalle stanno giocando giocatori ragazzi e ragazze con disabilità, senza disabilità e questa è l'inclusione vera. Mi fa piacere esserci e adesso guarderò il prossimo partito. È qualcosa, come hai detto te, di emozionante, qualcosa di, come posso dire, l'agonismo molti lo vedo in maniera molto negativa. Invece, secondo me, Special Olympics proprio dà anche la possibilità di confrontarsi al di là della competizione, proprio semplicemente fare squadra, credere anche negli altri. Questo per me è importante. È sicuramente qualcosa che li ha portati a credere di più in loro e a vedere che possono sempre alzare l'asticella, nonostante tutto, e raggiungere sempre dei livelli più alti nella vita. Fan un ammiratore totale dell'unificato.